Dopo i tanti casi di intossicazione da consumo di funghi, ecco un altro pericolo per la salute legato al consumo di alcuni cibi particolari come i frutti di bosco. Nel periodo specialmente delle feste natalizie sono indubbiamente molto utilizzati per la preparazione o la decorazione dei vari dessert. E la malattia che si può contrarre non è nemmeno delle più simpatiche, si parla infatti di epatite A. Secondo i dati in possesso del Servizio Sanitario Nazionale, nel 2013 si è avuto in Italia un aumento dei casi di epatite A correlati proprio al consumo di frutti di bosco ma surgelati. Il Ministero della Salute e di conseguenza le aziende sanitarie, comprese quella retina, hanno così avviato una campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza sul corretto utilizzo di alcuni prodotti alimentari che potrebbero essere fonti di rischio. Per prevenire la malattia è comunque disponibile un vaccino efficace e sicuro, vaccinazione che può essere effettuata nelle sedi degli ambulatori zonali del Dipartimento della Prevenzione, anche ad Arezzo. Ma ci sono soprattutto delle semplici regole da seguire per evitare il rischio di contagio. Consumare i frutti di bosco surgelati solo se cotti. Consumare anche i frutti di mare solo se cotti. Lavare accuratamente con acqua potabile frutta e verdura prima di consumarle. Bere acqua di pozzo solo se controllata e in ultimo la più banale ma forse anche la più importante lavare accuratamente le mani prima di manipolare qualsiasi alimento.